Il Signore Disse Caino al Signore Troppo grande è la mia colpa per sopportarla Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo E io mi dovrò nascondere lontano da te Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra E chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere Ma il Signore gli disse Però chiunque ucciderà Caino Subirà la vendetta sette volte Il Signore impose a Caino un segno Perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato Caino si allontanò dal Signore E abitò nel paese di Nod a oriente di Eden E abitò nel paese di Nod a oriente di Eden E abitò nel paese di Nod a oriente di Eden E abitò nel paese di Nod a oriente di Eden E abitò nel paese di Nod a oriente di Eden Solo il partito radicale poteva riuscire questo colpo gobbo Sono un partito di 2.000 iscritti alla credibilità necessaria Per invogliare tutti gli scommettitori A rischiare almeno una volta nel gioco della democrazia E con questo spirito che ci siamo mossi dal carcere Per adenire a questa convenzione democratica Per rischiare il nostro e più di quanto abbiamo E forse anche più di quanto ci viene richiesto Ci scrivono Maurice Bisgnani e Sergio Delia Per concludere Siamo venuti qua Per giurare sulla democrazia Quel giuramento che un galantuomo Un po' di tempo fa Poneva in ascoltato Affondamento di una vera pacificazione Questo non è sicuramente un luogo deputato Qui non vi sono le basi granitiche della nostra democrazia Il rituale del giuramento potrà anche apparire retorico In ogni caso per noi Questo è il qui ed ora Il luogo e l'occasione Il momento giusto Per fare e sottoscrivere Il nostro giuramento Perché una cosa è certa Ci dispiace Tremendamente Di aver fatto la lotta armata Ma Se questo è possibile Ci dispiace Ancora di più Di non aver fatto Fin da subito La democrazia Firmato Maurice Bisgnani e Sergio Delia I compagni radicali Bisgnani e Delia Dal nostro carcere L'incontro con Marco Parnella Sicuramente L'incontro Con una Storia Che Fatte le debite E grandi differenze Cioè tra la violenza Che aveva connotato la mia vita E la Non violenza di Marco Parnella Però Come giustamente Marco Parnella Mentre tutti ci consideravano I terroristi I fascisti Travestiti di rosso Eccetera Quindi dice No In realtà Violenti e non violenti Diceva Marco Sono fratelli Rivoluzionari Gli uni e gli altri I violenti per odio I non violenti per amore Quello che però In questo senso Diceva Sono fratelli Che li lega La Non rassegnazione La non indifferenza La passione politica Per cambiare Lo stato Delle cose Mio padre era Un carabiniero Quindi Per il lavoro Che faceva Girava In varie parti D'Italia Per cui Io nasco Praticamente In una caserma Dei carabinieri A Ponte Corvo Ho alcuni ricordi Della mia infanzia Un po' Che mi sono rimasti Impressi Di sicuro Ricordo questo viaggio Epico La prima volta Che salivo su una macchina Mio padre Aveva comprato La sua prima macchina Era un topolino Grigia Mi ricordo questo viaggio Da Ponte Corvo A San Cassiano Come se fosse Ieri C'ero io Mio fratello Che ha un anno e mezzo Più di me Rannicchiato indietro Mia madre Mio padre Davanti Che guidavano Vivo In realtà Già A un anno e mezzo A San Cassiano Per tutta la mia infanzia E anche L'adolescenza Fino anche Non sono andato All'università La Firenze Ricordo Questa mia casa A San Cassiano Che c'è tuttora Una strada La strada Per Poggiardo Sterrata Dove Improvvisavamo Ragazzini Le partite a pallone Insomma Due porte Con due sassi Da una parte E dall'altra E su Questo enorme Colverone Ragazzini Devo avere Sette Otto Anni Mi ricordo Che giocavamo pallone Anche la mattina Presto Prima di andare Prima di andare A scuola E Poi il mare La cosa che Un po' Ha segnato La mia vita A Santa Cesarea Dove arriviamo Alla fine Negli anni 50 Dove mio padre Costruisce La prima Il nucleo originario Di una Di una Casa E anche qui Insomma Per me Le alcance Erano Terribili Perché Significavano La scuola Finiva I primi Giugno Riprendeva I primi Di ottobre Quindi Era Tutto giugno Rubio Agosto C'erano Quattro mesi Di sole Di mare Che Un po' Mi hanno segnato Perché Insomma Ero magrissimo E attribuivo Un po' Al sole Al caldo E al mare La mia magrezza Che era diventata Anche un complesso L'avrei rimpianto Il mare Molti anni dopo Quando Me lo sognavo In carcere Quando stavo Quando stavo in carcere Santa Cesarea Era questo per me Era il mare Il sole Ma anche Questa magrezza Terribile Che mi Proprio Mi ossessionava E anche qui Sulla strada Del mare Allora Sempre Sterrata Insomma Il calcio Il pallone Ho assegnato La mia infanzia La mia adolescenza Io ho giocato A calcio Anche Dicono A buoni livelli Fino a Direi all'altro ieri Ho smesso Da 4-5 anni Forse le partite Più appassionanti Più accanite Proprio ai limiti Della rissa Sono quelle che ho fatto In carcere Nelle situazioni Più improbabili Per il gioco Del calcio Mi ricordo Le partite Che facevamo Alle murate In un Io le dico Un campo Perché A calcio Giocavamo Di una sorta Di triangolo Incavato Tra un braccio Della sezione Era un Carcere a raggera Quindi due sezioni Una Saramo noi E poi erano Chiuse Dal muro De cinta Lì Con i miei compagni Eravamo sotto Il processo A Chimaligna Giocavamo Allora Tutti i pomeriggi Si dava Un appuntamento Le guardie Sul camminamento Per vederci giocare Perché non avevamo Né visto Partite così Accadite Che si giocavano Ai limiti Contro le leggi Della geometria Perché giocare A calcio In un campo triangolare Credo che sia Impossibile Per cui Le due porte Una in un angolo E l'altra Nel lato opposto Di questo Di questo triangolo Ma poi Insomma Io Sceglievo il carcere Nel suo Il culo Potessi scegliere Nel senso che Speravo di finire Un carcere Dove ci fosse Almeno Un campo Di carcere Non dico Con l'erba Non dico Con le porte Regolamentari E dimensioni Regolamentari Ma quantomeno Un campo Dove si potesse Giocare Almeno Otto Contro Otto E questo avvenne In l'ultima parte Di mia carcerazione Era in Bibbia Dove Si facevano Un campionato Di calcio Iniziava In contemporanea Con il campionato Nazionale Di calcio E si confrontavano Tutti i bracci Al di là Di molti Che ancora Ricordano Della mia Militanza politica Come una militanza Diciamo Nei gruppi Estremisti Comunisti No Io I primi Due Tre anni Frequento Un circolo Anarchico Cioè Diciamo La mia Prima Formazione Politica Di tipo Anarchica E poi Corrispondeva Un po' Al mio carattere Io Non ho mai amato Insomma Quelle che poi Sarebbero diventate Nella Non soltanto Nella storia Del comunismo L'erano già state I soviet I tribunali Del popolo Le carceri Del popolo Con l'idea Picare rosa Avevano Uniquato Questa Simbologia E questa Strutturazione Della loro Lotta politica Per cui Il sequestro Il carcere Del popolo Il processo Popolare Il tribunale Del popolo Io Ero Anarchico E fondamentalmente Un po' Anche nella parte Seguente Della mia Abitanza politica Questo connotato originario Mi è rimasto Tant'è che ho scelto Di entrare nel gruppo Gli elementi letterari Erano più Diciamo Quelli politici Erano le forme Di guerriglia urbana In Tupamaros In Uruguay L'Ira In Irlanda Insomma Le forme Di lotta armata Meno Diciamo Legate Alla tradizione Sovietica Unispo E chiaramente Quindi questi Lui avevano Rapporti Con Allora Unione Sovietica Insomma Però Diciamo Rispetto alle forme Di lotta armata Di guerriglia Dell'Eco Stiamo parlando Di 30 35 anni fa 40 anni fa Erano più Queste forme Di guerriglia Metropolitana Oppure ancora più Diciamo La letteratura Cinematografica Statutitense L'eterno Conflitto Fra guardie Ladri Insomma Io Ero in prima linea Andavamo ancora A vedere Con i miei compagni Appena uscivano Un film Di San Pecchip Il Mucchio Selvaggio Credo che abbia Più inciso Sulla mia Diciamo Formazione Culturale Poi Ammattata Di politica L'hanno già Fondato Prima linea Più I tuoi film Petal E In quel pomeriggio Di un giorno Da cà Insomma Storia Di banditi Antisistema Che Un po' Nei quali Noi ci Medesimavamo Insomma Non erano Certo i libri Tantomeno L'esperienza Del socialismo Reale Che avevano Animato La nostra Ero anarchico Forse libertario Ma nel senso In cui non concepivo Forme Di potere Di stato Con tutto Poi l'armamentario Che connota L'apparato Del partito O dello stato Certo Violento Libertario oggi Se uno pensa A chi sono I libertari Oggi In Italia Pensa a Marco Pannella Pensa a Radicale Io ero anarchico Libertario Poi in realtà Lo sono divenuto Perché libertario E anche sinonimo Di non violento Noi certamente Non eravamo Non violenti Perché Usavamo La violenza Come forma Di lotta Politica Però Questo mio Diciamo Questa mia Prima formazione Anarchica Certo Poi mi ha fatto Scegliere Di aderire Un partito Libertario Sarebbe stato Meno Come dire Compatibile Con la mia Con la mia storia Con la mia natura Quello di aderire A un partito Strutturato Come ce ne sono stati In anni 70 80 Poi quando sono uscito Da freddimento Da caccia C'era ancora Il pc Queste cose qui Ma Intanto Diciamo che Gli arresti Nella mia Carriera Di delinquente Come dici tu Sono Tre Il primo Dura una settimana Durante una manifestazione Ci sono scontri Con la polizia Non vengono arrestati subito Ma dopo Credo un mese Però Spendeva questo Mandato di arresto Per Oltraggio E resistenza A pubblico A pubblico Ufficiale Credo che È stato l'arresto Che un po' anche Forse anche Il più traumatico L'ultimo L'ho vissuto In maniera più Serena Direi quasi Come un momento Di liberazione Ma ormai Era il periodo Della lotta armata Di prima linea Gli attentati Delle azioni Ma il primo arresto È stato Particuramente Traumatico Perché è la prima volta Che finisce in carcere Io capisco Cosa accade Penso ai giovani Che finiscono Per la prima volta In carcere Sono i giorni Più duri E sono quelli In cui si verificano Poi i suicidi In carcere Non perché io Avessi Minimamente pensato Direi a una soluzione Così radicale Rispetto all'insopportabilità Della condizione carceraria Ma credo che Pesi molto Nel primo arresto Nel primo impatto Con il carcere Una sorta di Direi quasi di vergogna Di finire in carcere Pensavo a mio padre Carabiniere Pensavo a mia madre Se l'avessero mai saputo Credo che non l'abbiano mai saputo Nel giro di qualche anno L'ho raccontato io Molto molto tempo dopo A mio padre E a mia madre Ma ricordo questa Io ho fatto sette giorni Poi sono stato scarcerato Non perché ci fosse stato un processo Ma l'ho messo in libertà Cella di isolamento Parliamo delle murate Dei primi anni 70 Cella di isolamento E' una veramente davvero Pane acqua Si torniva su un tavolaccio Non c'era neanche Il materasso di gomma piuma Che poi avrei ritrovato Nelle esperienze carcerarie successive Questa stanza Al di sotto del livello Del terreno Quindi con la bocca di lupo Con gli scarafaggi Insomma tutta la fauna possibile Che puoi trovare in condizioni Al limite dell'umanità L'umidità Il freddo Insomma il bugliolo Dove fare i propri bisogni Che poi ogni tanto Venivano a svuotare Furono sette giorni Ma credo che Quei sette giorni Abbiano pesato In termini Di impatto Con il carcero Più di quanto poi Non abbiano pesato I dodici anni Che avrei fatto Successivamente Il secondo arresto È quello che hai detto tu Per ricettazione In realtà stavamo preparando Già L'organizzazione armata Quindi durante L'occupazione Delle facoltà di architettura Decidemmo di Procurarci il materiale Che ci sarebbe servito Per la Erano stampanti Fotocopiatrici E anche delle cose Pesantissime Che non avremmo mai usato Perché non sapevamo Neanche come Come funzionavano Poi esco dal carcere Allora Dopo i due mesi Ho un processo Come dici tu Una settimana prima Che Avvenisse Il tentativo Di Di evasione Di miei compagni Che nel frattempo Già in prima linea Erano stati arrestati Verso la fine Delle Settantasette E Ancora Io Ovviamente Che c'è fosse Un tentativo Di evasione Nero assolutamente Consapevole Anche perché Chiunque finisce In carcere Io credo che Già dal giorno dopo Soprattutto Se non è Un ladro di poveri Ma è Diciamo Inserito dentro Un'organizzazione Che fa la lotta Armata E che fa la lotta Al sistema Già dal primo giorno Pensi Al piano Di evasione Cioè I piani di evasione Avrò Concepiti Realizzato Nessuno Ma Concepiti A decine Durante I miei 12 anni 12 anni Di carcere Quindi ricordo Quel fatto Come Non sapevo Ovviamente Il giorno In cui Sarebbe Avvenuto Stiamo parlando Di un Piano Di evasione Organizzato Tutto Dall'esterno L'interno Consisteva Semplicemente Nel tagliare Le sbarre Perché poi Il nucleo Diciamo Di assalto Carcere Veniva Da fuori Attraverso Un piano Molto sofisticato Che era stato Concepito Eccetera Beh Quell'azione Di prima linea Io vedo Che sia stata Un po' La fine L'inizio Della fine Di un ciclo Della nostra Lottornata Le nostre azioni Non avevano Un po' Appunto Del tipo Cinema americano La lotta Tra Delle banditi Contro il potere Contro il sistema Che siano Banditi politici O banditi Della rivoluzione Messicana Un po' Questo A legge Del film Il nucleo Selvaggio O nel Semplicemente Di rovinatori Eccetera Però Non avevamo Mai Come dire Ammazzato Nessuno Meno Prima linea A Firenze Non si era mai Macchiata Di azioni Di atti Che avevano Portato Alla morte Di qualcuno Lì Morì Un giovane Pizzetto Non perché fosse L'obiettivo Dell'azione L'obiettivo Era fare Vare Dei detenuti E fu davvero Un caso Molto Una serie Una concatenazione Di fatto Assuramente Imprevisti E imprevedibili Che portò A quello Che Poi Perdere L'innocenza Tra virgolette Della nostra Lotta Armata Un po' Avvolta Nell'epica Nel mito Nella Letteratura Più che Nella Tragedia Ma lì fu Tragedia Perché Un ragazzo Un ragazzo Un ventenne Perché L'impianto Accusatorio Era Concepito In maniera Tale Che uno In quanto Dirigente Di una Organizzazione Armata Era responsabile Anche Di azioni Che non Aveva Direttamente Organizzato Ed eseguito Magari Responsabile Anche Di azioni Che aveva Concepito Che si sarebbero Realizzate Quando lui Non aveva Proprio Più La possibilità Di farlo Perché era in carcere Come è stato Il mio caso Perché lui C'è stata Anche Questa Coda Di Imputazioni Che sono State Successive Al mio Al mio Arresto Certo Era Maccio Del 79 Ti aspettavi L'arresto? Guarda Io Mi ricordo Il giorno Del mio Arresto Come Come se fosse Davvero Oggi Era Una giornata Bellissima Tipica Del maggio Toscano Molto Mite Non caldo Ma Sicuramente Piacevole Insomma Come solo A Firenze Il maggio È Una giornata Piena di luce Piena di sole Io arrivo Nel carcere Delle murate Dopo una notte In sonno Ovviamente Passata Nella questura Negli uffici Della Diversità Di Firenze Ricordo Quel momento Come Fosse Davvero Io lo ripeto Spesso Ma ne ho La Consapevolezza Viva Viva Le poliazioni Una vita Una vita Veramente Al limite Della Sopportazione Per me Quel carcere Quella cella Ce l'ho qui Davanti Presente Spoglia Spoglia Proprio dire spartano Già Accennare Un busso Per come Era Sistemata Arrivo lì Letto Classico Letto Piantato Per terra Delle sezioni Di isolamento Materasso Di gomma Più Macella Le lenzuola Rubide A strisce Marri Bianche A strisce Marroni Dell'amministrazione E la coperta Tipo militare A color militare Io ho finito In quella cella Credo che Di aver Dormito Immediatamente E Ininterrottamente Per almeno 48 ore E' stato Il sono Diciamo Più Sereno Più Direi Direi quasi Ristoratore Della Mia vita Di quella vita Che io Fino a quel momento Avevo Avevo Vissuto E E quindi Ho un ricordo Bellissimo Di quel giorno Il mio primo giorno Alle murate Di una Carcerazione Che poi sarebbe Stata quella Definitiva Che Avrei Avrei Fatto Non più Per una Settimana Come Il primo Arresto Per due Mesi Come il secondo Ma per Poi si Dovici Anni Venivo Usato Era una Stata Gemma Di tipo Non dico Processuale Ma investigativo Posto Che gli Inquirenti Avessero Elementi Su di me Che già Avrebbero Potuto Comportare L'associazione Sovversiva La Detenzione Di Armi La Banda Armata Eccetera Loro Sceglievano Fino Anni Settanta Inizio Anni Ottanta Così Funzionava Di contestare All'inizio Solo Un reato Che aveva Una Scadenza Un'associazione Sovversiva Tre mesi Poi Detenzione Di Armi Sei mesi Poi Banda Armata Altri Sei mesi Insomma Due Tre giorni Prima Della Scadenza Termini Del primo Reato Ti contestavano Il secondo Per guadagnare Altri sei mesi Di tempo Che erano In tempo Di indagine Fondamentalmente Così per arrivare Per allungare I termini Della carcerazione Preventiva Cosa che Oggi Non è più Possibile Oggi Se risulta Che Gli elementi A tuo carico Dei vari Reati Sono noti Agli inquirenti Già dal primo Giorno Dell'arresto Da lì Parte La carcerazione Preventiva Hanno guadagnato Il tempo Che gli è stato Utile Necessario Certo Per le indagini Ma la svolta Fu I primi Petiti Di prima linea Roberto Sandro Che poi Hanno raccontato Tutte le altre Storie Per cui Si arriva A 81 capi Di imputazione Diciamo La stragrande Maggioranza Dei Qua Posso dire Al 90% Frutto Della mia Non esecuzione Materiale Di questo Quello Reato Ma della mia Qualità Di capo Organizzatore E quindi Responsabile Di tutte le azioni Che l'organizzazione Aveva concluto In quel dato In quel dato Periodo Per cui Si arriva Alla Sentenza Di primo grado In cui Il pubblico Mistero Chiede addirittura Del gastro Mi vengono dati 30 anni In secondo grado Poi diventati 25 25 anni E con buona parte Dei reati Come dire Contestati Per cui sono stato Condannato Il primo grado Per concorso Morale Che sono stati Caduti Anche perché Poi la previsione Degli stessi giudici Era che Una sentenza Così fatta Non soltanto Di Come dire Contestazioni Di reato Di processi A grappolo Ma anche Di sentenze Fondate tutte Sul principio Del concorso Morale Non avrebbe letto L'esame Della Cassazione Per cui Si sono Concentrati Su quello Più grana Cioè Il tentativo Di evasione Dalle murate Con L'omicidio Del poliziote Che fu Un fatto Non programmato E imprevisto Ma certo Sempre possibile In qualsiasi Azione armata E al quale Io Non avevo Materialmente Partecipato Ma anche In termini Di organizzazione Di concepire Il piano Perché Insomma In cui Lenti Lo sapere I giudici Lo sapevano Era uscito Una settimana Prima L'organizzazione Aveva Concepito Il piano Tutto dall'esterno Quindi Il ruolo Di uno Che stava In carcere Non poteva Poteva essere Semplicemente Un esecutore Materiale Nel senso Che proprio Perché era uscito Una settimana Prima Sapevo Benissimo Diciamo La geografia Dei luoghi Avrei potuto Partecipare Ma era documentato Che io Non ero A Firenze E' vero Da tutt'altra Parte E che non sapevo Che quel giorno Sarebbe avvenuto Un fatto che io Comunque Sapevo Che doveva Avvenire Perché il piano Di evasione C'era Ma come tanti Quello poteva Essere eseguito Ma poteva Poteva anche Essere Inviato O non essere Effettuato Mai Tra il 79 Tra il 1979 E il 1984 Comincia il tuo Turbo Per le carceri Speciali Sei risottoposto Allora a un regime Carcerale Quello dell'ex Articolo 90 Che era molto simile All'attuale Articolo 41 bis Cosa ricordi Questo Turbo Ricordo che Insomma Lo spirito Ribelle Anarchico Chiamiamolo Come vogliamo Era assolutamente La mia natura Era assolutamente Incompatibile Con il regime Carcelario Soprattutto Un regime Carcelario Duro Quindi In qualsiasi Carcere Io arrivassi Direi Che il giorno Stesso Dell'arrivo Il direttore Che aveva subito Il mio trasferimento In quel caso Già faceva istanza Di un mio nuovo Trasferimento Perché Prima di me Arrivava la fama Di uno Che comunque Avrebbe creato Casino In carcere Quindi Credo di aver vigilato Quasi tutto Tutti Le carceri Speciali Di allora E Il periodo più lungo L'ho passato A Pianosa Carcere Un po' Davvero Siamo un po' Nella Scenografia Dei film Di San Peckinpah No Uno stile Molto Direi Sudamericano Con Palazzine Basse Scrostate In Lande Desolate Il carcere Dove La sezione Agrippa Del carcere Di Pianosa Io sono Allervato lì E già Dal giorno Dopo Praticamente Ho Pianizzato La lotta Dei detenuti Perché Potessero Vedersi Tra di loro Non solo A gruppi Di 5 6 Come era Autorizzato A loro Ma a gruppi Tali Di un numero Tale Che consentisse Almeno Di fare Di formare Due squadre Per giocare A pallone C'è qui Qui ritorna Sempre La mia Passione Anche Calcistica In ogni calcio Io do Organizzare Come minimo Una partita Di calcio La possibilità Di giocare A calcio E siccome Lì Diciamo I passeggi C'erano Quadrati Quindi Già La geometria Favoriva Il gioco Del calcio Anche se In campo Di calcio Sono Come tutti Sanno Rettangolari Ma già Rispetto al triangolo Il quadrato Favoriva Però Il problema Qual era C'erano Tre sezioni Che Le cui finestre Davano Sul relativo Passeggio Dell'aria Un'uscita Quindi Andavano In quel passeggio Lì Occupanti Delle tre celle Che affacciavano Su quel tipo C'erano Due persone Per ogni cella Quindi ci ritrovavano A giocare A pallone 3 contro 3 Con magari Uno Di 50 anni 70 anni O uno Che Non so Invalido Che sarebbe impossibile Quindi Organizziamo Questa lotta Perché La possibilità Che nello stesso Passeggio Potessero andare Più Sezioni Diciamo Più celle Almeno Diciamo Due Gruppi Di celle Quindi Una dozzina Di persone A volte Nella celle C'erano tre persone Quindi si poteva arrivare A 15 Una volta Terribile Quella che durata Non tantissimo Come mobilitazione Che cosa consisteva Arrivava Il cibo Dell'amministrazione Lo buttavano Nel corridoio Eccetera Il passo Una settimana Di questa cosa Alla fine Le guardie Le guardie Si sono Incazzate E hanno Diciamo Basta Arriviamo Arrivano Io ho la prima cella Della prima sezione Ed entrano Nella mia cella E chiedono Ora pulisci Ora pulisci Quello che è il cibo Il corritorio del cibo Che è buttato Io mi sono rifiutato Se l'aspettavano Sono entrati Forse ne sono entrati Troppe Troppe Guardie E mi sono salvato Perché erano talmente tante Ognuno voleva dare Il suo contributo Alla vendetta E quindi Un po' si sono picchiati Tra di loro Eccetera Mi ricordo che c'era Eddie De Quartez Un mio compagno di Cedra Che a un certo punto Napoletano E mi ha detto Guarda Ti hanno fatto capire Stenditi a terra E Fai finta che sei morto Per le botte Non ci siamo mossi più Sì 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 Sono andati via Dopo Un'ora di silenzio Irreale E' arrivato Il direttore Con Non Con 30 40 guardie Ma con Molte di meno Ci hanno presi Ci hanno portato In un'altra sezione Di isolamento Ci hanno riempiti Di morfina Abbiamo dormito Per 24 ore Perché dal dolore Io avevo le coste Con inclinate Eccetera Il giorno dopo Ritorniamo in sezione Per Tutti Veniamo accolti Come eroi Perché in realtà Poi Il direttore Aveva Chiamato Una delegazione De tenuti Aveva concesso Quello Che avevamo chiesto C'è la possibilità Di fare la socialità Con più Gruppi Di celle E quindi Da lì Poi si hanno iniziato Altre Empiche Partite A pallone Pianosa Il periodo In cui venne Anche C'è la sezione De politici Ma anche Addirittura Una sezione Separata Lontana Dei comuni Turatello Poi quello Napoletano Animale Del gruppo Di puto Eccetera Turatello Fece arrivare Anche palloni E magliette Lì si organizzarono Tornei Poi la cosa Degenerò Perché Come si so dire Mi dai una mano Si prende il braccio Poi ci furono concepiti Progetti di evasione Veramente Terribili Che furono scoperti All'ultimo minuto Affinché poi Non decisero Di bonificare Tutto E lì Ci fu La rivolta Non dei detenuti Ma delle guardie Contro i detenuti In cui le guardie Entrarono Distrusso Letteralmente Del carcere Abbattendo i muri Alla cerca di armi Tra una sezione E l'altra Io mi sono salvato Perché Ero stato trasferito Una settimana prima E non lo sapevano Ma sono andati diretti Verso la mia cella E mi fu spezzata Una gamba A un detenuto Un mio amico Uno di prima linea Che era arrivato A prendere il mio posto Praticamente A pianosa Nella stessa cella Dello stesso letto Un po' Mi assomiglia anche Pensando di picchiare a me Hanno picchiato i muri Non c'entrava niente La rive Una settimana Non era responsabile Diciamo Di tutto Quel casino Che si era creato Nei mesi precedenti Ma insomma Il pubblico mistero Aveva chiesto Del gasto La corte Ci aveva inflitto Trent'anni Diciamo che Era andata bene Rispetto a quell'amore Di reati Di campi di imputazione Di cui eravamo stati Imputati Ma Devo dire che io Già dopo Un mese Due mesi Quando ormai Era chiaro Che Insomma Dal punto di vista Processuale La situazione È stata pesante Ormai avevo Convissuto Preparato Convissuto Con l'idea Che dal calcio Non sarei più uscito Insomma Per me Che fossero Trent'anni O che fossero Del gastro L'idea che avevo È che Qui Ora sono E qui passerò Il resto Della mia Della mia vita Questa era Per cui L'entità Della pena Non avrebbe Non mi aveva Può dire Colpito Più di tanto Insomma Ero abituato All'idea Di passare Con i miei compagni Il resto Della mia vita Anche perché Non sapevo Cosa sarebbe successo Certo Non avrebbe vinto La rivoluzione Non avremmo vinto Sicuramente Neanche Noi detenuti I nostri Piani Velleitari Non avrebbero avuto Successo Di evasione Eccetera Quindi Il carcere È un po' così Insomma È un luogo Che Se tu Ci stai Un pochino Più del Dovuto Come dire Ti si Chiude addosso E Ti crea Una sorta Di Microsistema Nel quale Uno vive Si abitua A convivere E pensa Che quella Sia la sua La sua vita Questo era il sentimento Con cui ho Ho accolto Quella sentenza Un sentimento Che durato Per molti anni Finché Poi Non ho iniziato Un processo Che Insomma Gli osservatori Chiamano Di dissociazione Dal terrorismo Una parola Che io Non ho mai usato A differenza Di molti Mie compagni Che andavano Fieri di questo Già il termine In sé Di dissociazione Non mi convinceva Di fatto io Già nei primi Anni 80 Già il primo processo In cui veniamo Condannati A quelle pene Essendo un processo Maxi processo C'erano 50 60 persone Non soltanto I fiorentini Ma anche In virtù Del meccanismo Del concorso morale I responsabili Di azione Di prima linea Di cose Anche perché L'azione Più grave Quella del tentativo Di assalto Alle murate Stava fatta Tutto Da un luogo esterno Quindi Fu un processo Che per noi Fu un congresso Ci trovavamo Per la prima volta Nello stesso carcere 50 60 persone Praticamente Tutto Stato maggiore E non solo Anche in nove Di prima linea E lì cominciavamo A discutere Alla fine di quel processo Cominciavamo a uscire Dei nostri documenti In cui Buona sostanza Anche se non ancora Di punto di vista formale Dichiaravamo Fiusa L'esperienza Della lotta armata Un particolare Della lotta armata Di prima linea Cosa che poi Sarebbe fatta Nel processo successivo A Torino Un altro Maxi processo In cui io ero Imputato Dove poi Furono Concepiti Elaborati Resi pubblici I primi documenti Che i miei compagni Chiamavano Di dissociazione politica Dal terrorismo Io preferivo dire Semplicemente Di rottura Di soluzione Di continuità Di una storia No E tutta Gli anni Quindi parliamo Dall'82 83 84 85 86 Prima della legge Della sua Dissociazione Che arriva Credo Nel 87 Quindi tutto Questo percorso Poi i giudici Riconosceranno Di fatto Essere un percorso Di dissociazione Politica Al terrorismo Anche Che il mio personale Sebbene io Non avessi firmato Un documento Formale Però già Le mie prese di posizione A livello individuale In sede Nei processi successivi Ma già Quello Di primo Di primo grado Noi non Praticamente Non avevamo avvocati Avevamo un avvocato Di ufficio Che Al quale noi Non davamo Nessuna mano Insomma L'intentava Di limitare I danni Nella nostra Glove Ma io Non ho letto Una carta Del processo Io Vengo Condonato A 30 anni Ma poi Appello A 25 Senza aver mai Letto Le carte Del processo Ho contestato Questa O quella Accusa No io Quel giorno Non c'ero Non ho mai Detto nulla Io ho cominciato A leggere Le carte Del processo Nel 2006 Cioè Praticamente Dopo quasi 25 anni Nei fatti Dopo la vicenda Della mia Elezione Nella Cava Deputati Nell'ufficio Di presidenza Allora io L'ho scoperto Che cose Incredibili Se uno Avesse deciso Di difendere Nel processo Uno Non sarebbe Stato Condannato Conoscendo I fatti Ammettendo Quello Che Hanno Realmente Fatto E Quella Le cose Che Invece Aspettare Non c'entrava Mi sentivo Mi sentivo Un po' Nella veste Nella veste Effettiva Di quello Che ero Tutto Quello Che Era Avvenuto Qualche Modo Lo Sapevo O L'avevo Deciso O L'avevo Effettuato Quindi Non facciamo La lista Della spesa Di tutto Quello Io Mi assumo La responsabilità Politica E tutto Quello Che ho fatto Loro Hanno Tradotto Questa Mia Dichiarazione Di Assoluzione La responsabilità Politica Una sorta Di responsabilità Penale E' Un cortocircuito Tra Diciamo Le leggi Della Politica E le leggi Dello Stato Del diritto Del processo E' Una Sentenza Che Al retto Poi Negli anni E per l'aspetto Più grave Che era Quello Dove Io Poco Davvero Avevo Contribuito A che Avvenisse Condannato In via In via Definitiva Anche In questa Azione Che era L'obiettivo Dei magistrati Quello Comunque Di Tenermi Fuori In circolazione In galera Per più Tempo Possibile Però Non sto A Ritminare Non ho nessuna Intenzione Di fare Revisioni Di processi Non credo Che sia Neanche Giusto Perché Io sono Ovviamente Convinto Delle mie Responsabilità Di aver scelto Di fare Invece Che La lotta Democratica La lotta Non violenta Non violenta Era possibile Certo C'era Un regine Anche Allora Catto Comunista Il periodo Del compromesso Storico Un Ari Irrespirabile Un monoblocco Un monopartidismo Di cibici Contro Contro il quale noi Ovviamente Per un caso La lotta armata La violenza L'alternativa A quella Cibici Ero Di anni In cui I radicali Marco Pannella Il partito Radicale Facevano Il referendum Contro Il fermo Di polizia Le leggi Decreti Cossiga Quindi L'alternativa Per quella Vera Non violenta Che consiste Nella coerenza Tra mezzi Di lotta Politica E fini Della lotta Politica Stessa Perché Se non c'è Coerenza Tra i mezzi E i fini Tutto salta Tutto va In corto circuito I fini Vengono pregiudicati Dai mezzi Che si usano Nella lotta Politica Tant'è che Un grande Giornalista Letto Successivamente Riconosce Marco Pannella Quanto meno Il ruolo Di aver Impedito Che Solo Non tutta Una generazione Poteva Avvenire Che accadesse Ma solo Una parte Di una generazione Scegliesse La violenza I radicali Hanno costituito Un'arcinia Che tutta Una generazione Scegliesse Quella strada Eccetera Con i loro Banchetti Con la loro Forme di lotta Non violenza Con i loro Sciocchi della fame Con i loro Referendum L'alternativa Era quella E Pannella Che ci dice Ma compagni assassini Certo Una frase Che allora Mi fece Incazzare molto Quando la sentì Che è continuata Di suonarmi Di suonarmi Dentro Durante Il periodo Del carcere Non è un caso Che poi L'ho incontrato Però Quando ero pronto Io Incontrarlo Il maestro Accade sempre Così Che il discepolo Incontra il maestro Quando non è Il maestro È pronto Non è pronto Il discepolo E questo È accaduto Diciamo Verso La fine Negli anni Oltanta Era un amore bibbia Ormai Insomma Nella bibbia Cosa c'era Io avevo Finito Di fare Insomma Il tour Delle carceri Massima Di sicurezza E fu Grazie a Nicola Amato Il quale Aveva riconosciuto Nella mia Fur non formale Di associazione Politica Ma di fatto Associazione Politica Dal terrorismo Forse Il fatto Più genuino Perché uno In termini Organizzati Collettivi Con tutti Che firmano Lo stesso Documento Poteva essere C'è anche un elemento Di opportunismo Invece Il mio è stato Un percorso Solitario Di corretti Di associazione De loro Nicola Amato Che Ha scoperto Che ero Rimasto A Berbio Mentre tutti I miei compagni Erano finiti Nell'area Omogenea Di dissociati Dire bibbia Nel 2005 Insomma De lì Che cosa ci fa Ancora in carceria In massima sicurezza Leggo le sue cose Perché c'è la censura Eccetera Se questo Non è uno Che ha rotto Completamente Definitivamente Senza cercare Neanche La scorciatoia La scorciatoia Del collettivo Del movimento collettivo Di dissociazione Un bel giorno Decise Che no Non sarei più Ritornato Non so Era previsto Tornarsi al muro A Re Bibbia A Re Bibbia E a Re Bibbia Arrivano nel 2005 Già nel 2006 Insomma I radicali Venivano a trovare Il conto Nell'86 Nell'86 Con Marco Con Adelaide Il primo incontro Con Marco Pannella Fu proprio in carcere Fu proprio in carcere Perché c'eravamo iscritti C'era la campagna Occiolo Occiolo Del Partito Radicale Obiettivo 5.000 iscritti Entro la fine Dell'86 Poi rilanciato A 10 Altri 10.000 Entro La seconda sessione Del congresso Del Partito Radicale Che sarebbe tenuto A fine febbraio Fino di marzo Ci scrivemo In cinquantina Insomma Organizzai io Insieme a Nonno di Sbignami Rocco Martino Ciro Longo La raccolta Delle iscrizioni La facevamo A cinquantina Non andavamo Al congresso Dell'86 Prima sessione Che lo fosse Novembre O dicembre Che lo novembre Come al solito Dell'86 Ma mandavamo Una lettera Che Marco Panella Lesse Durante Il congresso Sarebbe andato Alla seconda sessione Per la prima volta Io ottengo Un permesso premio Per uscire Dal caccia Che sia la prima In assoluto Di un permesso Concesso A magistrati Di sorveglianza Di sorveglianza Non per motivi Familiari Non per Diciamo di solito Buona condotta Per messo premio Significa che vai Quattro Cinque Massimo Sette giorni Fuori Dei tuori Dalla tua famiglia No L'ho concesso Perché io Partecipassi Alla Sessione Del congresso Dell'Arcifere Partito Oggi vogliamo Offrirvi qualcosa Di più Vogliamo offrirvi Tutta la nostra Storia La parte luminosa E quella buia Consegnarvela E liberarcene Siamo venuti All'Eorgif Hotel Per rinnovare Un impegno E fare Una consegna In questa Convenzione Democratica Noi vi consegniamo Un'organizzazione Terroristica Nuda Mani E piedi Cuore Anima Finalmente Liberati Noi abbiamo Sciolto La banda armata Prima linea Nel 1983 Oggi ve la consegniamo Pura moralità E patto Di non indifferenza Vi consegniamo Uomini E donne Armati Di compassione E tolleranza Per tornare A vivere E lottare Con le ragioni E nelle speranze Del partito Della vita E della non violenza Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Roberto Rosso Roberto Rosso Infine Maria Teresa Conti Io personalmente Grazie a tutti Ci aspettiamo Ci aspettiamo Una filosofia politica Ed una educazione sentimentale Finalmente al servizio della democrazia Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti. Applausi. L'accoglienza fu davvero emozionante. Emozionata perché la gente, i congressisti radicali erano, per cosa stava accadendo? Ma è qualcosa, qui ci può essere, sicuramente i richiami possono essere diversi. La parabola del figlio prodigo, non lo so, ci fu sicuramente un'accoglienza, era il violento, quello che aveva fatto, lotta politica violenta, che decideva di approdare a una lotta, non diciamo al privato, ma al pubblico di una lotta aperta, non violenta, consegnando al partito del diritto e della non violenza, quell'organizzazione armata che era stata in linea, che era contro il diritto, sicuramente per i mezzi usati contro i fondamenti della vita civile, della vita democratica, eccetera. Al congresso ci dovevamo andare e ci andai. Sì, scrivemo questo appello, si apri un dibattio, credo sul manifesto, con Rossanda che un po' apprezzava, un po' diciamo, anche perché poi nel, che ora ci fu un seguito, non so se era in questo, questo era un appello all'Ettica dell'Ostria che fu pubblicato, poi ci fu un seguito con la nobiltà della Biura, nel maggio 87, che avevamo dato, eccetera, in seguito alla lettera, che era una buona provocazione, cioè che Rossanda non poteva accettare sia più bassa rispetto alla storia del comunismo, eccetera. No, lo facemmo perché ci fu un atto, un tentativo di capire, una rapida a una furcone portolavori, un valore in cui furono ammazzati due poliziotte. Io e Moris Bigliani decidiamo di fare questo appello, ma diciamo siamo già ormai avanti, noi eravamo già militanti del Partito Radicale, io al congresso fui eletto nella Secretaria Federale del Partito Radicale, e credo anche lì, per la prima volta nella storia del sistema penitenziario italiano, che facciamo le riunioni di Secretaria Federale a Re Bibbia, con loro che venivano da fuori, con i componenti della Secretaria, tutti i giorni, esclusi i festivi, perché non è una serie di libertà del lavoro esterno. No, ci tengo a precisarlo, perché tu conosci, e soprattutto quelli che conoscono, i ritmi infernali della vita del Partito Radicale, altro che prima linea. Cioè, sono ritmi veramente accelerati, non c'è un attimo di tregua, altro che la mia, senza tregua, di metà anni 70. Beh, avevo la certezza che i giorni festivi, che forse la domenica o le feste comandate, io a Re Bibbia potevo ritornare, dormire e giocare a pallonazione. Fino a che arriviamo a una data importante, che è il 15 gennaio 1991, quando viene schercerato per fine pena. Come ricordi quel giorno? Beh, diciamo, non è stato un impatto con la libertà, perché 5-6 giorni a settimana, secondo se c'era qualche festivo in mezzo, per estate 88, un anno e mezzo, entri e esci dal carcere, quindi preparato. Ma questo è importante perché davvero io credo che dovrebbe essere per legge stabilito che il tempo della pena deve essere un tempo graduato, regolato e scadenzato in una maniera tale che l'ultima parte della pena consista in una, diciamo, sedia di detenzione, la possibilità di uscire fuori. Cos'è la sedia di libertà, cos'è il lavoro esterno, se non propedeutico, la preparazione a una vita da liberi, soprattutto perché è passato molti anni in carcere. Dal punto di vista dell'impatto, ma anche dal punto di vista della sicurezza sociale, assicurarsi che l'ultima parte della pena non consista, appunto invece, consista in periodi di messa in prova, eccetera, è uno assolutamente fondamentale. Tu immagini uno che invece esce dal carcere senza neanche un permesso prego, senza neanche un giorno di lavoro all'esterno in prova, senza neanche un prevenzione di libertà, ritorna in un mondo che è quello che magari aveva lasciato 20, 25, 30 anni fa, assolutamente ignoto, in cui l'unica cosa nota, l'unica cosa certa è che quella persona lì, le statistiche lo dicono, all'80%, rientra in carcere. Invece laddove c'è un periodo di messa in prova che abbia i connotati della segni libertà, del lavoro esterno, del permesso premio, beh lì la recidiva è ridicola, si scende al 20% rispetto all'80% di chi si è fatto dal primo fino all'ultimo giorno della sua... quindi io esco dal carcere che praticamente era già uscito, ero già pronto, ma non solo perché ero un militante, un dirigente del Partito Radicale e cos'è, diciamo, quel principio costituzionale, no? Che la pena deve essere più che afflittiva tendere alla risocializzazione, io soltanto ero stato risocializzato, avevo la pienezza dei miei diritti non solo sociali ma anche politici essendo stato accolto non da una cooperativa, non da una carita, non da un'arci, ma dal Partito Radicale, da Marco Pammella, cioè da un'organizzazione politica. Io avrei conquistato i diritti politici dieci anni dopo, però già ero a pieno titolo un cittadino non di serie B essendo stato accolto, se vuoi, nel tempio del diritto, della politica, della democrazia, per come viene intesa, per statuto e per pratica del Partito Radicale. Arriviamo nel 1993 quando con Maria Teresa Di Lascia, tuo compagno parlamentare radicale, fondi Nessuno tocchi che io. Questo in perfetta continuità con quel percorso politico che abbiamo analizzato, che abbiamo intrapreso, con la viura della violenza e con la lettera ai compagni assassini e ora al centro della tua vita e attività politica vi è l'imperativo non uccidere. Credo che sia stato una sorta, c'è uno scherzo di Marco Pammella. Marco, credo che abbia voluto applicare a me una sorta di legge del contrapasso, tu che hai concepito l'omicidio politico come forma di lotta rivoluzionaria che è l'orizzonte del nostro progetto rivoluzionario, non uccidere il nemico, quindi non, come avrebbe fatto Marco, dialogare innanzitutto lo nemico per re, non tanto per cambiarlo, ma perché il nemico risultasse, fosse portato a una dimensione umana, ma soprattutto del diritto, cioè del rispetto da parte sua innanzitutto, soprattutto se è uomo di potere, delle regole, dello Stato di diritto, degli impegni propri del potere pubblico. Tu che hai concepito l'omicidio politico come forma di lotta, beh, ora ti impegni in una lotta perché si è cancellato l'omicidio politico per eccellenza, l'esecuzione capitale, il fare giustizia da parte di una comunità, da parte di uno Stato rispetto alla gravità del reato, eccetera. E quindi la campagna contro la pena di morte, che nasce prima di nessuno tocchicaino, perché già agli inizi degli anni 90, 91, 92, Marco affidò a me, a Maria Teresa di Lascia, la campagna perché non venissero giustiziati i golpisti che tentarono di rovesciare Gorbachev, Ruskovi, Kasbulatov, che hanno tentato un colpo di Stato contro la perestroica, per intenderci, e che rischiavano la pena di morte. Io, come dicevo, raccoglio insieme a Maria Teresa firme, i premi Nobel, parlamentari di tutto il mondo, e quella campagna fu vicenda perché poi Gorbachev, la vittima di quel colpo di Stato, decise di non procedere con un processo capitale nei confronti dei golpisti, e fu vicenda quella lotta. Allora da lì, insieme a Marco, concepimmo una lotta più, diciamo, di lunga durata, ma anche a tempo, un tempo ben preciso, entro il 2000, la moratoria delle esecuzioni capitali. e quindi fondammo nessuno Tocchicaino, che era, se vuoi, un po' una mia seconda vita. Io Caino lo ero stato, e grazie a Marco, grazie al Partito Radicale, insomma, mi fu data l'occasione per una seconda vita all'insegna appunto del rispetto dello Stato di diritto, della non-violenza, dei diritti, dei diritti umani. È il modo che lui ha concepito perché io in qualche modo riparassi agli errori o ai fatti o agli sfatti della mia prima vita, come una seconda vita che ho durato ormai un quarto di secolo all'insegna, invece del soccorso, certamente laddove erano vittime dei diritti umani, perché non c'è soltanto stata la campagna contro la pena di morte in questo ultimo quarto di secolo della mia vita, anche per l'affermazione di diritti fondamentali laddove venivano violati in qualsiasi parte del mondo. Il mio passare al Partito Radicale, direi, a tempo pieno, dalla mattina alla sera, è stato il modo in cui ho dato corpo a questa seconda fase della mia storia e della mia vita. E fu una... Secondo me, come soltanto Marco a volte sa concepire, no? Cioè, nelle persone... Vedere nelle persone è sempre la parte migliore che esiste, non esistono i cattivi e i uomini. C'è qualcosa di cattivo, non di noi, c'è qualcosa di buono. In noi si tratta sempre di far... di valorizzare, di far crescere la parte, tra virgolette, buona, ma nel senso di creativa, di creativa del nuovo, di creativa di nuove possibilità, di nuova umanità. E questo è il senso della campagna di Nessuto Chicheino che io ho condotto per il Partito Radicale, perché Nessuto Chicheino è un soggetto conseguente del Partito Radicale. Certo, molto caratterizzato dalla mia presenza, dalla mia storia e dell'impegno che io in questi anni, decenni ormai, ho messo in questa iniziativa, in questa campagna. Questo progetto credo che sia stato il modo migliore secondo gli intendimenti e il progetto di Marco, che è il progetto non soltanto del Partito Radicale, ma anche delle persone che danno a corpo al Partito Radicale, un progetto, se vuoi, riparatore, al di là di tutta la retorica, anche sulla pena finalizzata al reinserimento. Questo è un modo più concreto, più efficace per concepire un percorso di socializzazione, di ritorno alla vita, di ritorno alla società. Quindi il nostro nessuno tocchicheino è contro quella aberrazione di uno Stato che pretende di fare giustizia e di affermare il bene contro il male infliggendo solo il male che è la pena di morte, cioè la violenza che è la pena di morte. E' una parabola anche questa, anche cristiana, nel senso buono del termine, le vite che iniziano in un modo, poi hanno un corso, hanno una traiettoria, hanno una parabola che può essere più o meno felice a seconda delle occasioni che la vita concede e le persone concede. In questo caso Marco Pannello ha concesso a me. Ci racconti Maria Teresa di Lascia? Maria Teresa è stata un po', diciamo, io lo dico spesso, l'angelo custone della mia vita, di questa mia seconda vita, nel senso dell'attenzione, della cura a che io esprimessi la parte migliore di me. Io credo che Maria Teresa sia stata, diciamo, nell'ambito radicale, nella storia radicale, quella figura con cui Marco più ha dialogato e forse alla quale più ha affidato. Io credo che Marco non vorrebbe mai che qualcuno scrivesse la sua biografia, tanto meno che la scrivesse lui. La biografia di Marco è la lotta di Marco, sono le azioni, sono i fatti, il suo dare corpo alle sue idee popolari quant'altre mai. Ecco, se per biografia si intende invece in termini positivi interpretare un pensiero, beh, anche nella storia progressuale, dei congressi del Partito Radicale, un po' Maria Teresa aveva questo ruolo, no? di questo ruolo, aveva questa dote, quella di capire, di... intelligente, nel senso che riusciva a capire, a leggere, ma anche a prevedere le cose che sarebbero avvenute, le cose che sarebbero avvenute, non un caso che Marco la rifississero, a posto fa, se sei una strega, sei una strega, cioè, poi avrebbe vinto il premio strega, quello letterario, ma strega nel senso che lei aveva una capacità di capire i caratteri delle persone e se uno conosce il carattere di una persona, cioè la sua natura che è fatta anche di memoria, conosce anche la natura delle persone, in questo senso lei, poi si miragliava, avevi ragione, avevi previsto che in realtà lei conosceva, aveva una capacità di conoscere, proprio di penetrare i caratteri, il suo romanzo, il passaggio in ombra è una storia sul filo della memoria e dei caratteri dei personaggi che annunciano il futuro di quei, il destino, quel carattere e il destino, come diceva lei aveva capito, infatti diceva come io davvero non riesco a conoscere come tu possa essere stato cattivo nella tua vita, cioè aver fatto le cose, non so, quelle di cui si è accusato che magari non hai fatto, ma anche quelle che tu hai ammesso, perché lei vedeva in me invece un fondo di bontà e io diceva sì, vabbè, tu esageri, sei eccessiva come Marco Pannello, ma non ho detto tu sei fondamente, c'è la parte buona di te e prevalente rispetto a quella cattiva di cui tutti consistiamo, di una parte buona, di una parte, di una parte che lei è stata l'angelo custodio, della curatrice della mia parte diciamo buona, tra virgolette, quindi io credo che non è che Marco abbia affidato a lei, ci siamo incontrati, un po' perché si è la destina che ci incontrassimo, che io nel mio percorso di ritorno e di approva ad una nuova vita, io dico la mia seconda vita, ma invece c'è qualcuno che non dico un cane ma guarda io la vuoi là anche un guardiano di un percorso, di una via che pare che sia stata poi quella giusta che ho intrapreso nell'ultimo quarto di secolo della mia vita e di un percorso. Io sono uno che nella sua prima vita ha fatto il giovento, ha fatto la lotta armata, sono uscito dal carcere, se c'è un caso in cui si può dire che quell'articolo 27 della Costituzione sia stato colto e concretizzato e anche rappresentato da uno come me, cioè di uno ritorno alla libertà di una persona diversa da quella che era quando ha perso la libertà, per me è stato un momento di liberazione, ripeto spesso anche la mia carcellazione. Beh, che io ecco, questo è epilogo della mia vita, cioè io che finisco in Parlamento, io che ho fatto la armata contro il sistema, contro lo Stato, eccetera, che finisco in Parlamento era in un ruolo anche di responsabilità un po' burocratico, non certo di ragione, né rappresentante del popolo essendo un eletto nominato dalla Rosa del Pugno, da Marco Pannella in particolare, eccetera, ma non certo neanche un rappresentante dell'istituzione, Camere Deputate, però piuttosto che invece di salutare questo mio arrivo in Parlamento per la mia storia violenta come la vittoria dello Stato di diritto e della non violenza e della democrazia, invece è stato vissuto come lo scandalo del loro traggio alla memoria delle vittime. Una memoria che se non è stata violata innanzitutto da coloro che ne hanno fatto a commercio, io capisco, comprendo, non dirò mai una parola che non sia di condivisione e di partecipazione umana, ma chi a causa delle mie azioni ha perso il bene più caro nella vita di un familiare seppure provocati indirettamente non in quanto esecutore materiale ma per le mie responsabilità politiche che io comunque continuo ad affermare e a non disconoscere beh, io capisco che ci possa essere un sentimento di offesa per questo ma quello che non concepisco è che i mercanti nel tempio sacro del dolore dei parenti delle vittime che è stato affollato dai vari giovanardi Gasparri Vito e quant'altro per non parlare dei giornali giornalisti eccetera quello è stato un esercizio ossivo del dolore dei parenti delle vittime no? assolutamente ad uso politico attaccavano me per attaccare la storia di Marco e del partito radicale della Rosa del Pugno indirettamente se vuoi del governo che noi sostanzialiamo il governo prodi però io sono stato lì secondo proprio con condizione di causa progetto di Marco Pannella perché io rappresentassi il detenuto ignoto essendo io quello noto mentre il detenuto ignoto è quello che per il solo fatto di aver passato un anno un giorno dieci anni di trent'anni in carcere spiata la pena tornato fuori in libertà non ha diritti civili non ha diritti politici costretto alla clandestinità non ha la possibilità di trovare un lavoro costretto a nascondersi rispetto a quello che è stato e cioè in carcere no? e qui per il solo fatto appunto di essere marchiato da questa esperienza tu sei stato in carcere proprio lì in quel posto la camera rappresentava un po' anche questa situazione cioè situazione di coloro i quali avendo passato una parte della loro vita in carcere ecco vengono segnati per quello se tu non cambierai mai perché sei stato in carcere invece no io forse posso essere il testimone diciamo più evidente più chiaro di una possibilità che il carcere non sia soltanto un luogo di perdizione di suicidio di depravazione di disperazione ma anche un luogo in cui si possa coltivare la speranza di un'uscita fuori dal carcere di una persona diversa da quella che era quando entrata di un'uscita di un'uscita quindi mi piace Quando si dice, come dice Marco, si dà corpo alle proprie idee, agli obiettivi, beh lì è stato un successo proprio di questo, di dare corpo della non violenza, c'è Marco fatto un scioclo della fame, uno scioclo della sete di una settimana a rischio di finire, anzi è arrivato proprio sulla soglia della dialisi, per salvare la vita di chi poi, di uno riverito e accolto in tutto il mondo quando era a potere, con i tappeti rossi stessi in tutto l'Occidente, saltando sei, quando invece è stato deposto ed è stato catturato come un topo dentro un buco e portato davanti a un tribunale, un processo farsa in cui è stato condannato a morte e poi gli hanno stretto un cappio alla gola per non farlo parlare magari, come la battaglia di un arco di Iraq libero, perché la verità sulle ragioni di quella guerra, quando l'esilio era possibile di Saddam l'hanno voluto invece fare la guerra e poi prenderlo e ammazzarlo per tappargli la bocca rispetto a quella vicenda e lui ha fatto lo sciocco della fame, della sete per Saddam, nessuno tocca Saddam, fu ammazzato Saddam, però da lì è partita l'iniziativa che ci ha portato a vincere un anno dopo alle Nazioni Unite, alla moratoria, che non solo per i Saddam del mondo, ma per i Saddam sconosciuti, per i condannati ignoti alla pena di morte, la moratoria di una situazione innanzitutto questo, no? rivolta ai condannati a morte, indimenticati, anonimi, innominati della pena di morte, è stato un successo innanzitutto della non violenza, oltre 90 giorni di sciopero della fame, tra aprile e giugno, perché l'Unione Europea mettesse a corte, perché il governo italiano, l'Unione Europea è una coalizione mondiale, i paesi promotori della motone mettessero all'ordine a giorno un testo alle Nazioni Unite, è stato il frutto di questa azione, da 80 kg e passa che erano scesi a 59 kg in quella lunga lotta, se non ci fosse stato quello sciocco della fame della sete di pannella su Saddam, è continuato poi nei mesi successivi, insieme a me, insieme a Marco, ad altri compagni, ho dimenticato qualcuno, l'altro invece è Elio, Claudio Asterzi ed altri compagni, tra un setto otto, ha fatto. Beh, fu messo a voto e fu ottenuto il risultato che noi da almeno 12 anni ritenevamo possibile, probabile, documentato e che nessuno voleva riconoscere. Tutti i nostri rapporti sull'opera di morte ogni anno mettevamo le previsioni di voto a loro, il voto è stato al di là, addirittura positivo, al di là nelle nostre stesse previsioni. Fu una vittoria, anche nel governo italiano, di L'Alema, che non ci credeva. A un certo punto si è convinto che ce la poteranno fare, ma ci sono stati durissimi scontri, in cui ero nella Camera dei Deputati, in Aula, nella Commissione Esteri, quando non voleva fare il governo italiano, da L'Alema, mettere all'ordine al giorno una cosa. Siamo riusciti a convincere, ecco appunto, non scagliare il proprio corpo contro il nemico, l'omicidio politico o la distruzione dell'avversario, ma il convincere, di vincere insieme ad altri, insieme, noi lo abbiamo convinto. molto prima di D'Alema. Quando abbiamo convinto D'Alema possiamo dire di aver convinto tutte le Nazioni Unite, tant'è che quel voto c'è stato. Lui ha riconosciuto anche D'Alema, perché ci fu un voto, io ero a New York, proprio seduto accanto a lui mentre si votava, ho fatto subito un corregamento di Dio Radicale, a Roma, al lago di Dio Argentina, c'era l'Assemblea, i Radicali eseguivano in tempo reale, l'evoluzione del voto all'ONU, non riuscì a parlare, attualmente non se era altro, rompeva la voce, non riuscivano a parlare attraverso la Dio Radicale per dire come stava andando, ma li seguivano la diretta attraverso la web tv delle Nazioni Unite, e si pevano cosa era successo. D'Alema fece la conferenza statale, aveva un voto, c'era anche Sant'Egidio, gli ho detto no, Sergio tu accanto a me, perché riconosceva che insomma non soltanto avevano ragione, avevano visto bene, ma avevamo anche lottato perché le Nazioni Unite finalmente votassero quel testo a cui erano già pronte da almeno un decennio e che gli era stato negato di votare, solo perché la Realpolitik, questi osservatori che non riescono a vedere niente se non la Realpolitik, gli analisti più realisti del re, invece noi, umili artigiani della politica, del diritto, della non violenza, del possibile, del nuovo possibile, la vedevamo più lunga di quanto non la vedessero a coloro i quali dicono no, ma questo non è strategico, oppure questo è strategico. I quali sono a favori della boccia di risoluzione 1 si prega di votare. Si prega di votare coloro i quali sono contrari e gli assenzioni. La generale sta volando sulla boccia di risoluzione 1 dal titolo moratorio sull'utilizzo della pena di morte raccomandata nel documento A62439 addendo 2. Tutte le delegazioni dovrebbero confermare che il loro voto è stato riportato sul tabellone. Trasmissione Il risultato della votazione come segue, a favore 104, contrari 54, astenuti 29. Vozza di risoluzione 1 è stata adottata. Un regalo all'umanità, in particolare e a partire dalle italiane, a cui chiediamo di darci forza per continuare questa e altre lotte necessarie nel mondo. Credo che la nostra concittagina abbia premiato, credo che la determinazione del governo, il che è andato in ciappone, che è andato ovunque, credo abbia dimostrato tre cose. La persistenza, la determinazione, fare sistema per ciare uniti e la flessibilità senza essere rigidi e quindi senza ideologie, ma per i valori che vogliamo tutti conquistare. Credo che sia un buon Natale per gli italiani e gli italiani, spero che lo sia, gesto di speranza anche per coloro che aspettano nei vari corridoi della morte, la pena di morte a cui ridare forse un po' di speranza. Senza speranza non si può vivere, credo questo nessuno di voi. A tutti gli amici e i compagni dell'Italia non solo vecchi e nuovi, giovani e anziani, però giovani di spirito. Un grazie, credo, non solo da parte mia, credo che l'Italia vi debba e ci debba qualche cosa. Questa sarà una data che si ricorderà nella storia e credo che l'Italia, il made in italiano non sarà soltanto, solo, magnificamente quello che produciamo, ma anche le idee, i valori e le lotte che sappiamo fare con la non violenza a fianco dell'istituzione. Grazie mille e grazie a tutti, però adesso aiutiamo. La moratoria è stata come strappare la firma su un contratto, la firma dei Paesi membri delle Nazioni Unite, a partire dai co-sponsor, da quelli che hanno votato a favore, ma anche da quelli che non si sono opposti con l'astenzione, non hanno partecipato al voto. Passare dalla firma di quel contratto al contratto vero, alla sua applicazione. Tutto il nostro progetto è che in Africa, in Medio Oriente, grazie anche a quello che sta accadendo a livello politico sociale con Medio Oriente, ma soprattutto all'istremo Oriente, la parte più dura, irriducibile dei Paesi voglia, che non più quello che Marco Mannella, Sergio De Liglia, Emma Bonino, il Partito Radicale, nessuno Tocchi Reino chiedono, ma quello che le Nazioni Unite chiedono, moratoria dell'istituzione, per porre fine, nella prospettiva di porre fine all'anacronismo della pena di morte, quella pretesa per cui si pensa di difendere una vita, quella delle vittime, infliggendo la morte. Il progetto di nessuno Tocchi Reino di questi prossimi 2-3 anni, di nuovo ancora in Africa, ma anche, ripeto, in Asia, con la possibilità di missioni, cioè siamo stati, possiamo dire missioni, cioè lo sguardo è missione per conto del Signore, noi in questi 20 anni siamo stati missioni per conto di Caino, cioè per conto di Abele, cioè di una giustizia che non sia dedicativa, e cioè di una giustizia che nel momento in cui si compie non perde le ragioni della propria diversità, rispetto a Caino, il reato, ai comportamenti, alla violenza, compiuta. Questo è il senso della nostra azione. Io credo che in posti apparentemente filologici accessibili invece ci si può entrare, intanto che le esecuzioni in Cina diminuiscono di anno in anno, è il frutto anche della nostra campagna per la morte. In Pakistan che ne faceva 300-400 all'anno, sono almeno 3 anni che non compie più esecuzioni. Grazie a noi, io direi grazie a questa sorta di diplomazia parallela che è stata, continua ad essere partito radicale, parallela alle neadempienze, alle mancanze, alle riserve, ai pregiudizi della real politica, del potere politico e del potere pubblico, che dovrebbe fare quello che nei propri statuti afferma di dover fare. Sta negli statuti delle costituzioni europee, dell'Unione Europea, le linee guida contro le note europee. Si tratta di quella risoluzione approvata dall'ONU che sia applicata in concreto e in tutte le circostanze. Il senso di questo nostro continuare. Certo, avremmo voluto finire e chiuderla entro il 2000. Siamo dovuti arrivare al 2007 non perché noi la tiravamo alle lunghe, per poter campare, perché poi c'è anche questa maledizione delle organizzazioni non governative, che sono a volte peggio che le governative, perché se hanno risolto il problema, la ragione sociale su cui si sono costituite, poi devono chiudere. Noi avremmo voluto chiudere, io davvero ne posso più di nessuno, perché io non credo che questa cosa si chiedesse con la fine. Ma io credo che noi abbiamo accelerato i tempi, cercando di tramontare i tempi storici della tradizione comune, la morita, la schiavitù, la tortura, la pena di morte, sono ferri vecchi della storia umana, che vanno sempre più arrugginiti e sempre più inconsistenti, vanno cancellati, chiusi, buttati via, eccetera. Quindi accelerare questi tempi storici in tempi politici, ed è il senso pure della rotta del Partito Unico, quello di dare una prospettiva politica a quella che sia millenaria, storica, eccetera. Per questo siamo ancora in prima linea. Allora, vi ringraziamo il TV Radicale, vi ringrazio Sergio D'Elia per questa intervista, grazie Sergio e presto su www.tvradicale.it. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.